Si sarebbero introdotti nei sistemi informatici della scuola facendogli evitare i loro voti nel registro di classe elettronico. Sette studenti di un liceo scientifico di Lecce, tutti sedicenni all'epoca dei fatti, sosterranno l'esame più importante della loro vita davanti ai giudici. I loro nomi sono finiti nel registro, quello degli indagati però, aperto dal pubblico ministero presso la procura per i minorenni Anna Carbonara. I giovanissimi avrebbero aumentato di 0,5 ad un massimo di due punti i loro voti conseguiti con prove scritte orali di diverse materie. Alcuni, accedendo con l'account del professore, avrebbero modificato voti già alti, trasformando per esempio un 9 in un 9,5. Alcuni di loro davanti al PM hanno confessato, altri invece hanno negato le accuse. Ora tutti e 7, ricevuto l'avviso di garanzia, hanno 20 giorni di tempo per preparare una memoria difensiva o chiedere di essere interrogati.